Pellicola ceramic, prettamente opaca per i miei clienti direttamente dalla Germania Allora ragazzi, andiamo a pulire il vostro telefono Germania dove? Hamburgo Hamburgo, un saluto ovviamente a tutte le persone che mi seguono dalla Germania che acquistano anche online, vi voglio bene e vi ringrazio Allora, ceramic prettamente opaca, la pellicola della vita, indistruttibile e l'opaco raga vuol dire telefono sempre pulito, quindi la salvezza Allora, Armour by New Martina E Armour per il mio marchio, andatemi a seguire anche su TikTok Armour ufficiale Che ho creato un'altra pagina dove metteremo tutti i prodotti Allora, qualche bollicina gente Ce la farò o non ce la farò? Non lo so Ebbene sì, quando faccio i video passa l'aereo, passa la polizia, scuola il telefono Entra qualcuno tipo il mio padre che disturba Però, voi siete abituati come lo sono io Ormai la prendiamo con pazienza questa cosa Ok gente Ecco a voi la nostra amata pellicola ceramica Completamente opaca, da 9,99 Disponibile lucida, opaca, opaca privacy e lucida privacy Potete venire al negozio oppure www.numartina.it A questa lavoro o mai più, questa risalverà la vita Ciao amici e un bacio a tutte le persone che mi seguono dalla Germania Ciao